Taranto via Fratelli Rosselli 3, una zona non servita dai servizi dell'ente comune, assolutamente. I cittadini sono costretti a pagare la luce, se la sono messa a proprie spese, a pagare i servizi di nettezza urbana perché l'AMIU non passa e con la beffa che l'area da loro curata è aperta a tutti, chiunque può parcheggiare. Siamo con un amico, un cittadino della zona, il signor Enzo Randi. Quanto spendete voi? Spendiamo 4-5 mila euro all'anno, lei si è dimenticata, paghiamo 3.500 euro all'anno di occupazione solo pubblica, luce come aveva detto, acqua, manutenzione fioriere e paghiamo la ditta di pulizia. Adesso servono 3-4 mila euro per fare l'asfalto perché il comune dice che l'asfalto dobbiamo farlo noi. Eppure l'area pubblica del comune. L'area pubblica del comune, di fatti non abbiamo messo nessun cancello perché ce l'hanno proibito. E' assurdo, no? Cioè il comune vi dice se volete campare dovete pagare voi. Si sono fermati lì, hanno messo i pali dell'energia elettrica e hanno detto no, se voi togliete le fioriere mettiamo altri due pali. Ma voi avete parlato con il sindaco, con il vice sindaco? Io ho parlato, andiamo 4-5 componenti, rappresentanti del condominio, l'assessore di, mi sembra, le noci, come si chiama? Cioè il vice sindaco, le noci, l'assessore dei lavori pubblici. Era lui, ha detto... Quanto tempo fa? Quando hanno messo questi pali, non so, un anno e mezzo fa, penso, due anni forse sotto le peste. L'ha detto che purtroppo ci sono le fioriere, non possiamo metterle e si sono fermate lì. D'altronde non entra neanche la ditta di pulizia, i camion hanno messo il cartello che il venditore fa dalla pulizia ma non entrano qui perché... E' il caso di dire, come diceva Totò, e io pago, e io pago e l'amministrazione comunale non esiste, vero? Penso proprio di no a questo punto, grazie comunque, sempre per il cittadino, lei può combattere. Grazie, a voi ragazzi.